... C'è qua il motore proprio? Ma il 40! Noo! Ma qua c'è, se ti guarda che sei il motore che parliamo più su quella macchina... Come hai il caore il motore... Noo, vediamo che c'è la macchina... Eddo, poi, tutto per il tuo moto, vedo se ne vanno con me. Andiamo a chiedere una punta che andate con il giro. Pronto, tovo? Sì. Sì. Ma questo è un po' più, Giulia. Questo è un po' più. No, scusa, basta un po' là davvero. Cinque moto. E' là per mille, poi l'ho già sentata la mia. C'era il giro, buono, buono. Ma che cazzo stai dicendo? I chiavi con il carri Ma mi hai fatto già mutare Paolo Ma come quindi quando faccio a casa non riuscire a te Ma come faccio a casa non riuscire a te Ma come faccio a casa non riuscire a te Ma come faccio a casa non riuscire a te Ma non senti più niente Però sono sano francese E ti pare che sono attiva Ma non so Ma come faccio a casa non riuscire a casa non riuscire a casa Ma pure sono sano che Cristo dice che sta pagando Sono tutti così sani tu però Sto pagando Se sapessi che avevo la sua pagina ci mettessi a prima ora E ciò Pagina è già pagina Ma a scantare Nonolerò Non vedo E pus se Di 20� Non NIC-DI Mi M a beee si 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 e parlato a beee e comparte cos'è e e e e Grazie a tutti.